Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Il tema della mia conversazione è i nuovi scenari in Italia e in Europa con e dopo il coronavirus. Non parlerò di questo tema dal punto di vista medico-scientifico, non ne ho la competenza. Tratterò invece l'argomento da altri tre punti di vista. Il punto di vista dello studioso di scienze politiche e sociali, il punto di vista dello storico, quale sono, e il punto di vista del filosofo della storia. Studioso di scienze sociali. Le scienze politiche e sociali sono quelle che indagano il comportamento dell'uomo nel suo contesto sociale, politico e geopolitico e da questo punto di vista non mi interrogo sulle origini del coronavirus e della sua natura, ma delle conseguenze sociali che esso sta avendo e avrà. Un'epidemia è la diffusione, su scala nazionale o mondiale, in questo caso si chiama pandemia, di una malattia infettiva che colpisce un gran numero di individui di una determinata popolazione, in un arco di tempo molto breve. E il coronavirus, ribattezzato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità Covid-19, è una malattia infettiva che ha iniziato a diffondersi nel mondo a partire dalla Cina e l'Italia è il paese occidentale apparentemente più colpito. Perché l'Italia oggi è in quarantena? Perché come i più attenti osservatori hanno compreso fin dal primo momento, il problema del coronavirus non è rappresentato dal tasso di letalità della malattia, ma dalla rapidità del contagio nella popolazione. Tutti sono d'accordo sul fatto che la letalità della malattia in se stessa non sia altissima. Un malato, se è assistito da personale specializzato in strutture sanitarie bene attrezzate, può guarire. Ma se a causa della rapidità del contagio, che può colpire simultaneamente milioni di persone, il numero dei malati dilaga, mancano le strutture, manca il personale e i malati muoiono perché vengono privati delle cure necessarie. Per curare i casi gravi occorre infatti il supporto della terapia intensiva per ventilare i polmoni. Se questo supporto manca, i pazienti muoiono. Se il numero dei contagiati aumenta, le strutture ospedaliere non sono più in grado di offrire la terapia intensiva a tutti e un numero sempre maggiore di pazienti soccompono. Le proiezioni epidemiologiche sono inesorabili e giustificano le precauzioni prese. Il coronavirus potrebbe colpire tutta la popolazione italiana, ma anche immaginando che solo il 30% si infetti, sono circa 20 milioni e se il 10% di questi va in crisi, significa che senza terapia intensiva avremo 2 milioni di decessi diretti, più tutti quelli indiretti, derivanti dal collasso del sistema sanitario. Il collasso del sistema sanitario porta a sua volta altre conseguenze. La prima è il crollo del sistema produttivo del paese. Di solito le crisi economiche nascono dalla mancanza di domanda o di offerta, ma se coloro che vorrebbero consumare devono rimanere a casa e i negozi sono chiusi e coloro che sarebbero in grado di offrire non riescono a fare arrivare i loro prodotti ai clienti perché le operazioni logistiche, il trasporto delle merci e i punti di vendita entrano in crisi, le catene di fornitura collassano e le banche centrali non sono in grado di salvare la situazione. La crisi del coronavirus non ha una soluzione monetaria, scrive Maurizio Ricci sulla Repubblica e un altro giornalista, Stefano Feltri, osserva a sua volta che le tipiche ricette keynesiane, cioè creare posti di lavoro, domande di offerta, non sono praticabili quando i lavoratori non escono di casa, i camion non circolano, gli stadi sono chiusi e la gente non prenota vacanze o viaggi di lavoro o perché è a casa, malata o perché tema il contagio. E anche le banche, la politica si rivelano impotenti, non basta un decreto del governo a riorganizzare la catena di fornitura. L'espressione tempesta perfetta è stata coniata diversi anni fa dall'economista Nouriel Rubini per indicare un mix di condizioni finanziarie tali da portare a un crollo del mercato. Ci sarà una recessione globale dovuta al coronavirus, ha affermato recentemente Rubini, che ha aggiunto che la crisi esploderà e sfocerà in un disastro. E queste previsioni sono state in parte confermate dalla caduta del prezzo del petrolio dopo il mancato accordo con l'Aurabia Saudita che ha sfidato la Russia decidendo di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. Ma soprattutto queste previsioni potrebbero essere confermate dallo svolgersi degli eventi. Il punto debole della globalizzazione è la interconnessione, che è un po' la parola talismano dei nostri tempi. Il sistema globale è fragile proprio perché è troppo interconnesso e il sistema di distribuzione di prodotti è una di quelle catene di interconnessione economica più fragili. E non è un problema di economia virtuale, è un problema di economia reale perché non solo la finanza ma anche l'industria, il commercio, l'agricoltura possono crollare se entra in crisi il sistema della produzione e della distribuzione. Ma c'è un altro punto che comincia a intravedersi, cioè non è solo il collasso del sistema sanitario, non è solo la possibilità di un crack economico, ma ci può essere anche un collasso dello Stato e dell'autorità pubblica. In una parola la anarchia sociale e le carceri in rivolta in Italia indicano una linea di direzione. Le epidemie hanno infatti conseguenze psicologiche e sociali importanti per il panico che possono provocare. Tra la fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento è nata la psicologia sociale. Uno dei suoi fondatori è il francese Gustave Lebon, autore di un libro dal titolo Psicologia delle folle, in cui Lebon spiega come nella folla l'individuo subisce un mutamento psicologico per cui sentimenti e passioni si trasmettono per contagio da un individuo all'altro come avviene per le malattie infettive. La moderna teoria del contagio sociale spiega come anche l'individuo più tranquillo può diventare aggressivo agendo per imitazione o suggestione, perché il panico è uno di quei sentimenti che si trasmette per contagio sociale, come accadde durante la rivoluzione francese nel periodo che fu detto della grande paura. Ora, se alla crisi sanitaria si aggiunge la crisi economica, una ondata incontrollata di panico può scatenare le pulsioni violenti della folla e in questo caso allo Stato si sostituiscono le tribù, le bande, soprattutto nelle grandi periferie urbane. Quella anarchia che è stata teorizzata anche recentemente dal Forum di San Paolo, una importante organizzazione di ultrasinistra dell'America Latina e sembra che dal Cile alla Bolivia all'Equador questo processo rivoluzionario ha iniziato a diffondersi, un processo che certamente risponde agli interessi delle lobby globaliste, ma se questo è vero, è anche vero che da questa crisi ciò che esce sconfitta è proprio l'utopia della globalizzazione. La globalizzazione infatti distrugge lo spazio e polverizza le distanze e oggi la regola per sfuggire all'epidemia è la distanza sociale, l'isolamento dell'individuo. La quarantena si oppone diametralmente alla società aperta auspicata da Soros. La concezione dell'uomo come relazione, tipica di un certo personalismo filosofico, tramonta. Papa Francesco, dopo il fallimento della Chirida Mazzonia, puntava molto sul convegno dedicato al Global Compact previsto in Vaticano per il 14 maggio, ma questo convegno è stato rinviato e non solo si allontana nel tempo, ma si dissolvono i suoi presupposti ideologici. Il coronavirus ci riporta alla realtà, non è la fine delle frontiere annunziata dopo la caduta del muro di Berlino, è la fine del mondo senza frontiere, non è il trionfo del nuovo ordine mondiale, è il trionfo del nuovo disordine mondiale. Lo scenario politico e sociale è quello di una società che si disaggrega e si decompone. È tutto organizzato? È possibile, però la storia non è un succedersi deterministico di eventi, il padrone della storia è Dio, non i padroni del caos. È la fine del villaggio globale, il killer della globalizzazione è un virus globale chiamato coronavirus. A questo punto lo storico si sostituisce all'osservatore politico e cerca di vedere le cose in una prospettiva di lunga distanza. Le epidemie hanno accompagnato la storia dell'umanità dall'inizio fino al XX secolo e si sono sempre intrecciate ad altri due flagelli, le guerre e le crisi economiche. L'ultima grande epidemia, l'influenza spagnola degli anni XX fu strettamente connessa con la prima guerra mondiale e con la grande depressione del 1929, conosciuta anche come The Great Crash, una crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale alla fine degli anni XX, con gravi ripercussioni anche durante il decennio successivo. E a questi eventi seguì poi la seconda guerra mondiale. Laura Spine è una giornalista scientifica inglese che ha scritto un libro tradotto in italiano con il titolo 1918, l'influenza spagnola, la pandemia che cambiò il mondo, in cui ci informa che tra il 1918 e il 1920 il virus della spagnola contagiò circa 500 milioni di persone, dall'oceano Pacifico al mar glaciale artico, provocando il decesso di 50, forse 100 milioni di individui, dieci volte di più della prima guerra mondiale. E la prima guerra mondiale contribuì a diffondere il virus in tutto il globo. Laura Spine scrive, è difficile immaginare un meccanismo di contagio più efficace della mobilitazione di enormi quantità di truppe nel pieno dell'ondata autunnale che poi raggiunsero i quattro angoli del pianeta dove furono accolti da folle festanti in seguito alla vittoria del 1918. Che cosa potrebbe avvenire oggi nel mondo interconnesso della globalizzazione? La facilità del contagio è certamente maggiore di quanto non lo fosse 100 anni fa. Chi potrebbe negarlo? Ma lo sguardo dello storico si spinge più indietro nel tempo. Il ventesimo secolo è stato il secolo più terribile della storia, ma c'è stato un altro secolo terribile, quello che la storica Barbara Tuchman nel suo libro A Distant Mirror definisce il calamitoso XIV secolo. E voglio soffermarmi un momento su questo periodo storico che segna la fine del Medioevo e l'inizio dell'era moderna. E lo faccio basandomi sulle opere di storici non cattolici, ma seri oggettivi nelle loro ricerche. Ebbene, le rogazioni sono le processioni indette dalla Chiesa per implorare l'aiuto del cielo nelle calamità. E nelle rogazioni si prega, a fame, bello et peste libera nos domine. La fame, la peste e la guerra sono sempre stati considerati dal popolo cristiano come castighi di Dio. E l'invocazione liturgica delle rogazioni, scrive uno storico Roberto Lopez, nel corso del 300 riprese tutta la sua drammaticità. Perché, secondo questo storico, durante il Medioevo nessuno dei grandi flagelli che mietono l'umanità ha infierito in grande misura in Europa né la pestilenza, né la carestia, né la guerra, che fece un numero molto ridotto di vittime. Per di più, durante il Medioevo, gli orizzonti dell'agricoltura furono ampliati da un lento addolcimento del clima. Ne abbiamo le prove nell'estendersi, ad esempio, della viticoltura in regioni come l'Inghilterra, dove oggi, come è noto, non è più praticabile. O nell'abbondanza anche di acqua nei territori del Sahara, che poi sono stati riconquistati dal deserto. Ma nel XIV secolo, alla fine del Medioevo, il quadro fu completamente diverso, anche in seguito a una serie di sconvolgimenti religiosi e politici. È un secolo che si aprì con lo schiaffo di Anagni nel 1303, una delle più grandi umiliazioni del papato nella storia. Vide poi questo secolo il trasferimento dei papi ad Avignone, in Francia, e dal punto di vista religioso si concluse con il cosiddetto scisma.